bene allora in questo breve video vi volevo mostrare l'utilizzo di questo pennellino il rigger e di quello che può fare o perlomeno per come per l'uso che io ne faccio nelle varie situazioni per farvi vedere un attimino anche come può essere usato in maniera da dover fare dei tratti leggeri e per come lo si usa per fare delle situazioni diverse quali possono essere piante che spugli e via e via dicendo allora utilizzo una diluizione facciamo che vi metto a disposizione anche la tavolozza una diluizione media utilizzo adesso un blu è una terra così una diluizione media e per fare tratti fini vanno va accarezzato il foglio in questo modo in maniera che possa si possano intravedere le increspature della carta oppure pigiare un po di più questo questo modo vedete che l'abilità anche di chi poi vi invito a esercitare questa operazione diciamo che voglio un tratto e spesso e volentieri capita di dover fare dei tratti che partono con una certa consistenza e finiscono finiscono si dice sgranando e in maniera più sottile bisogna esercitarsi esercitarsi in un certo modo il movimento e poi questo quello che voglio ottenere e questo è questo tipo di tratto parte in un certo modo e finisce molto fine sgranato ora finché si tratta di fare dei piccoli segni in questo modo è semplice la situazione esercitarsi anche a fare delle zone più lunghe ovvero mettersi dei limiti da qui a qui e dover arrivare a questo punto con un finale molto sottile è un'operazione non facile però alla fine con un po di allenamento e soprattutto essere più dritti possibili ma non è che serva poi alla fine non mi serve questo no non è che non serve serve perché tu hai un controllo sulla pennellata è un controllo sul tuo pennello sai come come trattarlo ora anche qui da qui a qui sono dieci centimetri può essere semplice da fare aumentiamo la difficoltà da qui a qui io lo chiamo la pennellata con il decollo cioè parto in un certo modo e ad un certo punto decollo cioè alzo il mio pennello alzandolo vado ad affinare il tratto fino a quando nello stacco totale arriva a questo punto più o meno è chiaramente ora faccio questo tipo di lavoro e qui c'è il decollo in questa zona c'è un decollo comincio ad alzare il pennello alzandosi le fibre si staccano pian piano dal foglio e arrivano sgranandosi e finendo il suo tratto non è semplice da fare però però mi serve per il controllo che ho sulla sulle pennellate che andrò a fare ci sono tante situazioni che possono comportare questa questo questo modo di pennellare può essere te ne dico una non so metti in un porto dove ci sono dove ci sono diverse imbarcazioni hanno tanti alberi e il dover tirare e il dover tirare in maniera anche verticale queste queste questi alberi di queste imbarcazioni ti devono essere devi devi riuscire a farlo in un certo modo fino a una certa altezza che vadano a finire sfumandosi nel nel cielo che cosa ma quindi devi essere in grado di farlo è vero che l'esercizio non è solo da destra a sinistra ma diventa più difficoltoso quando comincerai a farlo da scusate da sinistra a destra è facile perché è naturale viene naturale col movimento del braccio farlo ma quando comincerai anche dovevo fare da destra a sinistra le cose cominciano adesso ce l'ho poco poco acqua c'ho dentro anche ma non deve essere tanto accuso è ecco però da destra ad esempio anche i cavi del letto i cavi della luce i cavi della luce fanno urbano ecco qui e deve vedete alla fine il mio decollo c'è ma devi arrivare alla fine quasi alla fine non dico di arrivare precisamente a questo punto però se arrivi qui o se arrivi là va bene lo stesso è intanto riuscire a tirarli dritti o perlomeno più o meno dritti ecco e questo è un esercizio di questo pennello anche la difficoltà diventa anche maggiore ancora quando tirerò in questo modo con il pennello dritto dall'alto al basso o dal basso all'alto e ti devi mettere tu col braccio in un certo modo da doverlo gestire in maniera che i tratti diventino questo è uno degli esercizi che insegna durante il corso di tecnica base ed è un esercizio importante può sembrare noioso è un esercizio che potete fare anche con una macchetta con una grafite prima di passare al colore ma è importantissimo perché quando ci si ritrova a dover eseguire un'opera spesso si ha a che fare con cambi elettrici, fili d'erba, rametti e molto spesso non si riesce ad avere il tratto giusto poi dopo per essere ci sono tanti esercizi da fare con questo pennellino perché lo si deve sostituire poi alla matita in pratica per i dettagli finali della tua opera e quindi dover anche utilizzarlo per fare cerchi quindi non ti capiterà spesso di fare queste cose qui, ripeto ti può servire solo per avere una manovalanza per gestire il tuo attrezzo in maniera sicura e soprattutto curare molto la pressione se lo voglio leggero deve essere leggero il tratto, non anche come fuori una cosa cominci così e poi così, la voglio così so che ho una pressione ma se la voglio leggera la voglio leggera, la voglio leggera, la voglio leggera, la voglio leggera io ho una pressione da esercitare e quindi questo è un esercizio molto molto utile difficile di quello che sembra, lo dico ora l'uso che poi se ne fa di questo pennello per certe situazioni è variegato è variegato se devo fare una pianta non la faccio quando la disegno col mio tronco e poi e poi vado a fare questo con i pennelli normali vado a fare questa situazione perché magari può capitare che tante persone io parlo più che altro per chi all'inizio queste cose qui lo sto dicendo ovvio che chi è ormai abituato a lavorare da acquarello non farà mai questa cosa qui però il duo può spiegarle perché tante volte ma per rendere interessante una pianta magari anche stupida come può essere un tronco con delle foglie può essere anche utile utilizzare intanto il pennello alla fine del suo manico in maniera che si ha meno controllo meno controllo e utilizzarlo in questo modo ecco che entrano in gioco le pressioni vedete quanto può essere più interessante una pianta fatta così rispetto a una pianta molto più interessanti e la velocità è interessante giocare con la punta più o meno schiacciata di questo pennello un cespuglio era usato così il pennello ma anche una pianta uguale uguale può essere anche utilizzata in questo modo cioè di piatto io sto usando il mio pennello di piatto questo consente di interpretare dei soggetti come potrebbero essere degli alberi dei cespugli che spesso vengono anche qui posso fare sono interpretati in modo anche forse fin troppo infantile mentre in questo modo sono più interpretativi e non banali ecco qui un'altra pianta avendo utilizzato il pennello di piatto e non in questo modo ma utilizzandolo di piatto e anche sul tronco dandogli queste pennellate casuali eccolo qui cioè mi sembra anche una cosa diversa rispetto sempre al primo molto più vibrante chiamiamolo che dopo uno può anche giocare solo con l'acqua e andare a creare situazioni di macchia che scivola il colore verso il basso si creeranno delle macchie delle situazioni un po' particolari che andranno a mischiarsi con i rami ecco qui guardate in due secondi si può creare una cosa interessante questo è un pennellino che volendo consente di eseguire un lavoro per fare certi lavori è eccezionale io lo utilizzo spesso perché mi dà appunto queste possibilità rifacciamo un'altra con un'altra tinta vediamo utilizziamo la nostra terra una pianta semplice questa è la pianta più facile che ci sia da fare l'avrete sicuramente riconosciuta colore colore cos'è? un cipresso che è un cipresso abbiamo fatto un cipresso vado acqua per alcune zone usate l'acqua usate l'acqua che è la migliore amica dell'acquarello un pennellino particolare ovvio con un pennello ho provato diversi pennelli diversi rigger sempre pennelli dello stile però quelli che hanno soltanto la punta fine non ottieni queste cose qui non si ottengono queste screziature non sono mai riuscito a ottenerle questo pennello mi ha dato questa possibilità di farlo e quindi guardate guardate un po' l'albero che prende l'albero che prende la luce entra però grattando la velocità la velocità è una cosa importante per questo per questo lavoro la velocità ecco non è fresco così rispetto a un dover fare la pianta in questo modo ho esagerato fare queste queste situazioni ma me le ritrovo però non è che tanto ho esagerato me le ritrovo su certi soggetti certe cose qui quando invece con velocità e frenesia nel fare le cose si possono ottenere sono fogli che buttate via non buttatele via usatele per fare queste cose qui il pennello non va usato solo in questo modo solo così no e ho visto tante persone che lo utilizzano solo dall'alto al basso e basta o stanno lì a curare la pennellata no usatelo a destra a sinistra sopra sotto cioè conoscetelo il vostro pennello perché se non lo si utilizza non si provano queste cose non si otterranno mai certi risultati buttate via un foglio un foglio che magari non utilizzate più ma provateci provateci con un pennellino piccolo si riescono a ottenere questo è ovvio che se si usa un pennello grande più grande o pennelli d'altro genere si otterranno sempre cose diverse probabilmente probabilmente riempirà più zone più grosse sì però è sempre il movimento che fa poi dopo alla fine dovete sempre utilizzare un movimento veloce e con una certa e con una certa diluizione anche del colore io trovo questo più eccezionale allora spero che di essere stato utile in questo piccolo in questa piccola demo e poi me lo vedrete usare sicuramente in altri contesti e lo rivedremo e lo riprenderemo grazie alla prossima a Grazie a tutti.